Questa mattina alle prime luci dell'alba i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato sei persone per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'attività investigativa è stata avviata solo alcune settimane fa a seguito dei riscontri sulle prime dichiarazioni del collaboratore di giustizia Santo La Causa che ha indicato quale una tra le vittime del racket delle estorsioni un bar di Librino. Con il coordinamento della Procura della Repubblica del Capoluogo Etneo i carabinieri hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell'esercizio pubblico al fine di sorprendere in flagranza gli esattori del pizzo e i risultati non si sono fatti attendere. Tre giorni fa infatti si è presentato presso il bar un individuo per riscuotere la quota mensile destinata al clan. I carabinieri hanno osservato attentamente i movimenti dell'uomo il quale, entrato nel locale pubblico e fatto un cenno al proprietario, ha controllato che all'interno non vi fossero appartenenti alle forze di polizia. Avuta nella certezza erronea, il soggetto si è avvicinato al titolare del locale e si è fatto consegnare il denaro, ma mentre si è diretto verso l'uscita ha trovato ad attenderlo i militari del reparto operativo, che nascosti nelle immediate vicinanze lo hanno bloccato e trovato in possesso di 200 euro. L'esattore identificato in Davide Enrico Finochiaro, 27enne di Catania, è stato arrestato in flagranza di reato per estorsione aggravata dal metodo mafioso, in quanto ritenuto affiliato al clan Santa Paola Ercolano. L'attività di indagine della Procura e dei Carabinieri non si è risolta però con l'arresto del Finochiaro. Il bar in questione sarebbe stato infatti vittima del racket sin dal 2004, quando i titolari furono costretti, per timore di ritorsioni, a pagare mensilmente il pizzo. La ricomposizione degli eventi degli ultimi otto anni, resa possibile dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e dai riscontri effettuati dai Carabinieri, ha così consentito di identificare coloro che nel tempo si sono alternati per la riscossione delle mazzette. La DDA, dunque, ha emesso il provvedimento di fermo nei confronti di altri sei soggetti, tutti appartenenti al clan Santa Paola Ercolano. Si tratta dei catanesi Salvatore Ayasecca, classe 59, Davide Salvatore Licciardello, classe 77, Angelo Mirabile, classe 66, ritenuto responsabile criminale del gruppo Villaggio Sant'Agata, Salvatore Gerardo Marro, classe 63, Orazio Papale, classe 77, e Davide Seminara, classe 78. Le investigazioni sono partite a seguito di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia? Sì, in particolare del collaboratore Santo La Causa, che, come sapete, è uno dei più importanti, in quanto fino al 2009 era reggente del clan Santa Paola per tutta la provincia. Anche altre dichiarazioni di un altro pentito, e poi ha avuto uno sviluppo con l'arresto in fragranza di reato di lunedì scorso di uno degli esattori, e quindi poi ha portato all'esecuzione di questi sei fermi. Come era gestita questa attività di racket? Ma nel modo più classico, nel senso dell'esazione del quanto dovuto, quanto stabilito mensilmente, da parte appunto di una rete di esattori veri e propri. Quanto tempo sono andate avanti queste indagini? Sono in corso da alcune settimane, precisamente per questa tranche. Naturalmente sono in corso tantissime altre attività. Che cosa state attenzionando in questo periodo? Il fenomeno delle estorsioni sicuramente è un fenomeno che abbiamo insieme in collegamento con la Procura di attenzionare in particolare maniera proprio in questo periodo, ma non sfuggono anche altri interessi dall'inserimento negli appalti e anche chiarire gli omicidi che sono stati commessi negli anni passati, quindi diciamo praticamente a 360 gradi. Grazie.